come termina l'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo. È molto importante, interessante vedere come termina questo poema, anche perché poi l'Orlando Furioso riprende da lì. A dire la verità, l'Orlando Furioso riprende più che altro dalla fine... Che cosa? Dalla fine del secondo libro. E infatti nel secondo libro essenzialmente che si parla di Angelica e di come Angelica sia stata affidata al conte Namo di Baviera, perché c'erano due cugini che stavano litigando per lei. I due cugini sono Orlando e Ranaldo nell'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo e diventeranno Orlando e Rinaldo nell'Orlando Furioso appunto di Ariosto. Ecco, qui invece si parla di una storia un po' diversa. Si parla della storia di Bradamante che è addormentata sotto un albero, viene vista da Fiordespina, figlia del re Marsilio. Fiordespina la prende per un cavaliere, nel senso che Bradamante è tutta bardata da uomo, insomma da cavaliere con l'armatura, eccetera, e quindi lei, Fiordespina, crede che sia un uomo invece che una donna. Boiardo, come abbiamo visto all'inizio del nono canto, fa una specie quasi di proemio in cui parla dell'ispirazione di amore, che amore ha ispirato il suo poema. Poi, nella quarta ottava, riapre gli occhi Bradamante, Fiordespina resta ancora più affascinata da questi occhi e non riesce a capire da questi occhi che si tratta di una donna invece che di un uomo. Bradamante ha perduto il suo cavallo. Fiordespina decide allora di donare a Bradamante il suo velocissimo destriero, che però ha l'unico difetto di non essere sempre controllabile. Siamo arrivati a questo punto della storia. Essa, cioè Fiordespina, aveva un destriero di andologia, di andalusia, un cavallo spagnolo, insomma, che non trovava paragone al corso, cioè che nessuno era più veloce di questo cavallo, forte e leggero, un sol difetto a via, che potendo pigliare con i denti il morso, al suo dispetto l'om portava via. Cioè l'unico difetto che aveva questo destriero che non potendo afferrare il morso con i denti portava via il cavaliere a suo piacere. Era il cavallo che decideva dove andare e non il cavaliere. Né si trovava a sua furia a soccorso e non si riusciva a trovare un freno alla sua forza, alla sua foga. Sol con parole si poteva tenere, ciossa la dama e ad altri non vo' dire. Questa è una cosa molto particolare. Furbescamente, Fiordespina regala il cavallo a Bradamante, ma non gli dice la parola segreta che serve per far fermare il cavallo. E quindi se il cavallo imbizzarrisce, lei però lo fa tutto scientemente, Fiordespina, perché vuole, ha un sogno d'amore da coronare, diciamo così. E per questo motivo non dice la parola che era necessaria per fermare il cavallo imbizzarrito. Per questo crede lei di fare acquisto di Bradamante. Cioè, pensa, Fiordespina, di catturare il sentimento, l'affetto di Bradamante che stima un barone, che giudica, ritiene un uomo, abbiamo detto. Quindi un guerriero, un barone, quindi appunto uno dei capi. E dice, Cavalier, tanto stai tristo forse per aver perso il tuo ronzone. Effettivamente, Bradamante era triste perché aveva perso il suo cavallo. Ronzone, ronzino, termini con i quali viene indicato il cavallo. Sebbene non ti abbia conosciuto o visto, la cera tua mi mostra per ragione che non puoi essere di natura fello. Alle più volte è buono e quel che è bello. Anche se non ti ho mai visto, guardandoti così in un modo abbastanza superficiale, si può comunque capire che non sei di natura fello, sei un fellone, sei un traditore. No, guardandoti si vede che sei una persona affidabile, una persona di cui fidarsi. Alle più volte buono è quel che è bello. Se una persona, il più delle volte, se una persona è bella, automaticamente è anche buona. E tu sei bello perché pensa che sia un uomo. Ecco. Onde non credo poter collocare in altrui meglio una mia cosa eletta. per cui non penso di poter donare, regalare a nessun altro più degno di te una mia cosa eletta, una delle cose a cui tengo di più. Eletta letteralmente vorrebbe dire che io ho scelto di possedere, che io possiedo per scelta. Però, perciò, questo destriere ti voglio donare, ti voglio donare questo cavallo che non ha il mondo bestia più perfetta. è un cavallo potente, forte, velocissimo. Non c'è nessun cavallo paragonabile a questo. Sol colui dà qual dà le cose rare. Quindi, si donano le cose a cui uno tiene di più. Quindi io adesso ti sto regalando una cosa che ha un grande valore. Perché io tengo moltissimo a questa cosa. Ciascun privar se sa de cosa abietta. E per stimarne di poco valore io non ardisco di donarti il core. Ecco, attenzione, questa appunto è una strategia degli innamorati. Sono presenti pertanto in questo brano anche delle strategie particolari degli innamorati. Come proprio questa del dono, del regalo. E pone l'accento Fior Despina sul fatto che il regalo che sta facendo è un regalo di valore. Tutti infatti sono capaci di privarsi di una cosa di poco valore. Dona davvero solo chi dona le cose che ama. Solo colui dà qual dà le cose care. Perché tutti quanti sono capaci di regalare una cosa che è superflua per loro. E per stimarmi di poco valore, per il fatto che io mi consideri di poco valore, io non ardisco, non ho il coraggio di donarti il corpo. Così dicendo, salta della sella e il corsier per la briglia li presenta. Quindi vuol dire che Fior Despina scende giù con un salto dalla sella del suo cavallo e offre il suo cavallo per la briglia. quindi offre proprio la briglia a Bradamante. Bradamante che vide la donzella nel viso di color di amor dipenta e gli occhi tremolare alla favella dicea tra sé qualche una malcontenta sera di noi è ingannata la vista che grattugia grattugia poco acquista. Allora, attenzione, questo è un'ottava fondamentale perché ci serve per capire bene il giudizio di Boiardo sull'amore omosessuale. La cosa fondamentale che abbiamo già detto la volta scorsa è che se Fior Despina non si rende conto che Bradamante è una donna al contrario Bradamante lo capisce molto molto bene perché la vede insomma in vesti femminili Fior Despina allora dice strano stranissima questa cosa cioè che una donna si sia innamorata di me che sono donna però su questa faccenda ha un giudizio piuttosto sereno non un giudizio moralistico l'unica cosa che dice insomma Boiardo attraverso le parole di Bradamante è che si tratta comunque di un amore innaturale si tratta di un amore vano inutile insomma l'immagine sarebbe questa se tu vuoi grattugiare del formaggio prendi da una parte la grattugia e da un'altra è formaggio e così puoi ottenere le scaglie di formaggio grattugiato se invece metti una grattugia accanto ad un'altra grattugia non vuoi dire niente si tratta di un'immagine molto semplice che allude al fatto che se vuoi avere un figlio metterà insieme appunto un uomo e una donna se invece metti insieme una donna con una donna non verrà fuori niente si tratta dicevamo di un giudizio molto tranquillo molto sereno con il quale si dà un giudizio abbastanza negativo comunque dell'omosessualità ma non per un pregiudizio moralistico ma per un'osservazione di carattere semplicemente naturale così tra sé pensando Bradamante disse alla dama questo dono è tale che a meritarlo io non seria bestante Bradamante abbiamo visto prima i suoi pensieri adesso invece si rivolge alla donna a Fior despina e dice ad alta voce questo dono è tale che io non lo merito insomma se ben tutto mi dono poco vale se io posso dare tutto quello che ho varrebbe poco a confronto di questo bellissimo cavallo ma il dar per merto è cosa di mercante e voi che avete l'animo regale degnerete accettarmi quali io sono che il corpo insieme e l'anima vi dono ecco qui addirittura Bradamante che sa che Fior despina è una donna comunque si offre accetta lo stesso il dono della donna e offre il suo affetto diciamo così il suo sentimento si offre a lei si offre a Fior despina in modo molto semplice ciò non rifiuto disse Fior despina né di cosa che io tengo più me esalto e quindi io dice se tu ti offri a me io non rifiuto questo ma né di cosa che io tengo più me esalto insomma né mi può dare maggiore gioia alcuna di tutte le altre cose che possiedo non fece mai che io creda un dono regina che ne pigliasse guidardon tant'alto insomma il discorso che si faceva prima che Bradamante non si Fior despina non si comportano come dei mercanti e nessuna regina credo fece mai un dono che poi le ottenesse una ricompensa tanto preziosa vedo che tu ti offri a me e questa è una cosa straordinaria bellissima e credo che nessuna regina insomma fece mai un dono che poi ottenesse come ricompensa un dono tanto prezioso come quello che fai tu che hai detto che offri te stessa corpo ed anima a me Bradamante tacendo a lei se inclina e siccome era armata prese un salto che avria passato sopra una ziraffa salì a destrero e non toccò la staffa a questo punto in modo molto agile Bradamante salta sul ronzino con un salto tale che sarebbe stato in grado addirittura di passare sopra una giraffa salì a destrero e non toccò la staffa riuscì a montare a cavallo senza neppure toccare la staffa che aiuta a salire sul cavallo la saracina Fior despina è appunto saracena e musulmana a quell'atto si affisse con gli occhi fermi e di mirar non saccia poi chiamando i compagni intorno disse per me non per voi fatta questa caccia se al mio comando alcun disobbedisse sarà caduto nella mia disgraccia che meglio vi sarà cadere nel fuoco vuo che ciascun stia fermo nel suo loco allora a questo punto Fior despina ancora più innamorata di Bradamante perché l'ha vista salire così agilmente sul cavallo ancora non sazia quasi di vedere di osservare questo spettacolo straordinario si rivolge ai compagni che ha intorno ecco ricorderete la volta scorsa abbiamo spiegato che Fior despina sta per iniziare una battuta di caccia ma adesso spiega a quelli che sono vicino a lei che la battuta di caccia è sua personale e che non deve venire nessuno a fianco a lei e tutti devono star fermi dove sono perché lei andrà a fare questa battuta di caccia da sola insieme con Bradamante e basta stativi quieti e come gente mute e lasciate venire le bestie fuori però che io sola le devo seguire tutte state fermi insomma e lasciate venire fuori le bestie le bestie sarebbero a parte i cavalli e soprattutto i cani da caccia che servono per cacciare gli animali e io da sola voglio seguire tutte queste bestie e voglio andare insomma a cacciare da sola e tu barone riferito a Bradamante che ritiene sempre come ho spiegato sin dall'inizio un uomo appresso a me dimora quindi tu seguimi piacer non ho maggior se Dio mi aiute che quando un forastier per me si onora e non è cosa e a mia fette prometto che io non facessi per darti diletto e quindi io ti prometto insomma di fare il tuo piacere tutto quello che desideri non ho piacere maggiore di quello che provo quando col favore di Dio posso onorare un ospite straniero come te a quei tossi ciascun per obbedire tutti quelli che erano in seguito di Fior d'Espina che ricorderete è una regina si fermano obbedendo a quello che aveva chiesto di fare Fior d'Espina chi stende l'arco e chi suo cane aggroppa sono i preparativi della caccia infatti dice insomma chi distende l'arco chi lega al guinzaglio il suo cane il suo cane aggroppa già tutto il bosco si sentia stromire dei corni abballi e il gran rumor se incoppa che vuol dire quindi che il bosco riecheggia dei suoni dei corni e dell'abbaiare dei cani e ora il grande stremito si spegne se incoppa eccoti un cervo della selva uscire che avea le corne in sino in sulla groppa un cervo per molti anni conosciuto perché il maggior giammai non fu veduto incomincia adesso la battuta di caccia che è un altro topos letterario nel senso che compare in svariati testi e quando incomincia la battuta tanto per incominciare compare un cervo che ha le corna lunghe fino a sfiorare la groppa il suo dorso insomma un cervo conosciuto come molto vecchio riconosciuto quindi con un cervo piuttosto vecchio perché mai ne fu veduto uno più grande più anziano più vecchio di questo di questo cervo questo uscì al prato di un corso si subito che non par che lo resti pruno o lapola e venne presto a fior d'espina un cubito quindi era subito si subito un cubito si che appunto alla coda e can li scapola insomma vuol dire che questo cervo sbucò sul prato di corsa così veloce che nei pruni né le lappole che sono piante campestre dai frutti spinosi sembrano fermarlo e passa a pochissima distanza a un cubito cioè a un gomito a una distanza di come dire di 30 centimetri potremmo dire no da fior d'espina così che riesce a evitare i cani che gli stanno alla coda in questo modo riesce a scapolare quindi a scampare ad evitare i cani che stanno alla coda di fior d'espina e fra stessa diceva io me dubito che costui resti e non senti la trappola se pregando che segua non impetro e poi se volse e poi se volse e disse vienmi dietro fra stessa fior d'espina diceva ho paura che questo cavaliere costui se ne stia qui fermo e subodori la trappola se con le mie preghiere non ottengo che mi segua quindi si gira e disse vienmi dietro vienimi dietro nel fin delle parole volta il freno seguendo il cervo eppur costui dimanda quindi appena finito di parlare togli i freni a suo cavallo seguendo il cervo e continuando chiama il cavaliere costui dimanda chiama bradamante benché avesse un amblante palafreno quale era nato nel regno di Irlanda e correa come un veltro o poco meno come tutti i roncin di quella banda non già che fosse in corso similante all'altro che aveva dato a bradamante allora praticamente avete capito la situazione c'è una battuta di caccia ci sono due cavalieri che sono tutte due femmine perché fior d'espina e bradamante ovviamente fior d'espina ha regalato tra virgolette il suo cavallo bellissimo e velocissimo a bradamante lei ne ha un altro che è un amblante palafreno insomma è un cavallo veloce di origine irlandese che corre come un cane da caccia o poco meno veloce come tutti i cavalli di quella regione comunque non paragonabile a quello che lei aveva regalato a bradamante che era ancora più forte e ancora più veloce quello andaluzzo cioè quello che aveva regalato a bradamante vi ricordate che era un cavallo di andalugia quindi di andalusia correva assai più che non volea il patrone alcuna fiata certe volte però quel cavallo che fior d'espina aveva regalato a bradamante correva più di quanto bradamante potesse guidarlo insomma ora appena nel corso posto fu che varcò fiordespina de un'arcata vuol dire che appena incominciò a correre quel cavallo superò fiordespina e il cavallo di fiordespina de un'arcata cioè lo superò addirittura di un tiro d'arco cioè di un bel pezzo era talmente veloce che in un attimo quasi scompare fiordespina all'orizzonte già se pente la dama esservi su ma scusate cos'è che vuol dire questa mi spieghi cosa vuol dire questo verso invece di parlare con la tua compagna vuol dire che già la dama c'è bradamante si pente di essere su questo cavallo e vede ben che la bocca sfrenata ricordate che è un cavallo che non ha il freno e i denti ora tira di possa ora tira piano ma a retenerlo ogni remedio è vano cerca in tutti i modi insomma di governare questo cavallo ma non ci riesce assolutamente era davanti un monte rilevato c'era un monte lì davanti piuttosto scosceso pien di cespuglie ed erboscelli strani ma non ritenne il cavallo affogato era talmente veloce questo cavallo che riusciva ad andare anche in salita questo passò come ha passato i piani cioè vuol dire quindi che riesce a superare questo monte così come aveva superato le pianure il cervo alle sue spalle aveva lasciato in realtà loro stavano facendo una battuta di caccia il cui scopo principale doveva essere quello di raggiungere un cervo eppure loro si lasciano alle spalle il cervo bello a vicino e presso a questo e cani e poco longe i cani e fiordespina che studia il corso e quanto può cammina nel frattempo diciamo che fiordespina è un po' affannata dietro bradamante perché non riesce a tenere assolutamente il corso la velocità di bradamante e del suo cavallo nell'ascesa del monte a ponto a ponto fu preso il cervo da un can corridore per fortuna un cane afferra questo cervo e come fu da questo primo aggiunto come fu raggiunto dal cane gli altri poi lo atterrarono a gran furore arrivarono gli altri cani da caccia gli altri veltri diciamo così e atterrarono il cervo ora faceva fiordespina conto di non lasciare più gire il suo amatore nel frattempo fiordespina continuava a osservare il suo amante diciamo quello che lei riteneva un uomo suo amante e scridando al destier come far suole fermare lo fa ben presto come vuole attenzione lei sa la parola magica che serve per fermare il cavallo di bradamante che era stato il suo cavallo e glielo aveva regalato allora allora riesce a fermarlo come è solito fare non dimandarsi bradamante allora vedendo il destier fermo se conforta e smontò dell'arcion senza dimora puoi immaginarti quale fosse il pensiero di bradamante quando finalmente il suo cavallo si ferma e lei aveva tentato inutilmente prima di fermarlo se conforta quindi e smontò immediatamente smonta da cavallo senza fermarsi un attimo senza dimora che quasi già si aveva posta per morta quasi già si riteneva morta visto che il cavallo la stava portando di qua di là tanto che gli batteva il cuore ancora ancora batteva il suo cuore e Fior d'Espina che è di questo accorta gli disse oh cavaliere vuoi che tu immagini che un falco commesso sol per smenticagine ecco io voglio vorrei che tu sapessi che mi sono dimenticato di dirti questa parolina magica solamente per dimenticanza in realtà noi sappiamo che Fior d'Espina l'ha fatto apposta perché voleva governare lei la situazione ben si suol dire non falla chi non fa ecco si dice spesso anche proverbialmente che solo chi non fa non sbaglia chi fa sbaglia non so come mi sia di mente uscito di farti noto che il destriere che te ha quasi condutto di morte al partito qualunque volta se gli dice sta eccola qui la parola magica la parola magica è sta basta dire sta che questo cavallo si ferma mi sono dimenticato questo particolare cioè di dirti che quel destriere o quel cavallo che ti ha quasi condotto a morire se gli si dice sta non passerebbe più nel corso un dito vuol dire quindi che si ferma immediatamente appena sente questo comando ma come io dissi mi dimenticai farlo a te noto e ciò mi duele assai ma come ti ho già detto mi sono dimenticato di dirtelo e questo mi duele rimase bradamante satisfatta per le parole ed anche per le prove che correndo il cavallo a briglia tratta come odiva dir sta più non si muove a questo punto bradamante può ritornare anche sul suo cavallo perché sa che è sufficiente dire la parola sta che questo cavallo sta fermo e non si muove più la esperienza fu più volte fatta fu fatta più volte l'esperienza ed effettivamente bastava dire sta che si fermava immediatamente al fine smontarono in sull'erbette nove sottesso l'ombra del fronzuto monte ovvero un rivo e sopra quello un ponte alla fine insomma si fermarono presso un prato l'erbette nove sottesso l'ombra del fronzuto monte quindi vuol dire alla base di quel monte pieno di monte boscoso dove c'era un rivo e sopra quello un ponte e sopra quello c'era un monticello un ponte scusate oh scusate sono andato un pochettino troppo avanti qui vi smontano le due damigelle Bradamante aveva l'armi ancora intorno l'altra uno abito biavo fatto a stelle quale era andoro e l'arco estrali e il corno e il corno insomma Bradamante aveva ancora addosso l'armatura l'armi ancora intorno mentre l'altra cioè fiordespina aveva un abito biavo cioè azzurro ornato di stelle le quali stelle erano alcune di oro come anche l'arco le frecce e il corno insomma un abito tutto pieno di ornamenti e di figurazioni ambe tanto leggiadre ambe si belle entrambe così leggiadre eleganti e così belle che avriano di sua bellezza il mondo adorno che avrebbero quindi adornato il mondo delle loro bellezze l'una dell'altra accesa nel disio l'una cioè fiordespina è accesa nel desiderio d'amore per l'altra quel che li manca ben saprei dir io ecco dicevamo in un modo allusivo ironico insomma sempre con la sua leggerezza boiardo tratta il tema dicevamo dell'omosessualità proprio con questo verso cioè quel che manca a bradamante glielo saprei ben suggerire io e qui ovviamente tutto viene sottinteso lascio a voi immaginare mentre che io canto oiddio redentore vedo la Italia tutta a fiamma e fuoco per questi galli che con gran valore vengo per disertare non so che loco mentre io sto facendo queste ottave attenzione questa è l'ultima ottava dell'Orlando innamorato che ci spiega proprio la situazione in cui si trova lui capitano di Reggio di Reggio Emilia quando arriva a Carlo VIII dalla Francia i galli no? per disertare non so che loco vengono questi francesi per distruggere non so che località del giardino dell'impero si diceva una volta c'è dell'Italia per renderla un deserto disertare però vi lascio in questo vano amore per questo motivo sono costretto a interrompere momentaneamente lui spera l'elaborazione dell'Orlando innamorato vi lascio proprio mentre sto parlando di questo vano amore il vano amore ecco sottolinea ha sottolineato più e più volte come l'amore omosessuale di Fior d'Espina per Bradamante sia più che altro vano inutile ardente a poco a poco un'altra fiata se mi fia concesso raccontaròvi il tutto per espresso un'altra volta se mi sarà concesso se mi sarà possibile riprenderò la narrazione vi racconterò tutto quanto per filo e per segno purtroppo però Boiardo costretto a difendere la città di Reggio Emilia non si può più dedicare al piacere della letteratura e quindi poi morì proprio in quel 1494 e quindi non gli fu possibile continuare la redazione dell'Orlando innamorato di Reggio Emilia